buongiorno a tutti allora sono le otto del mattino io sono in piedi dalle 6 le gemelle se avete visto il blog di ieri hanno dormito dalle 18 e 30 giotte 45 antonietta così fino antonietta si è svegliata stamattina alle 7 e stella l'ho dovuta svegliare più di 12 ore di sonno ininterrotto è stato bellissimo non si ripeterà più in sette anni e mezzo di più sette anni e nove mesi non si era mai non credo che si fosse mai presentata questa occasione si è presentata ora comunque stamattina non devo andare a lavorare ora accompagnano le bambine poi vado a ritirare il nuovo kit per la raccolta differenziata che offre il comune l'altra volta era andata ma servivano il pagamento le bollette pagate della della spazzatura della tari e quindi adesso le olio stampate perché avevo pagato online e quindi le ho dovute stampare stamattina mi sono data alle grandi pulizie cioè le piccole pulizie in grande nel senso che devo fare due cose non guardate il casino che c'è in questa stanza perché devo piegare dei panni ho messo stamattina a bagno perché sto notando bello il sifone di scusate io odio questo retro cucina ma è quello che insomma offre la casa notavo che la lavastoviglie non puliva benissimo allora io faccio così metto a bagno li smonto metto a bagno i due le due pale con i buchini infatti lo vedevo di solito faccio solo acqua e bicarbonato stavolta ho fatto acqua calda no di solito faccio stavo dicendo ho ricevuto una telefonata non avevo messo la modalità aereo scusate che di solito faccio soltanto acqua e aceto stavolta ho fatto acqua bollente aceto e bicarbonato che è frizzato tutto e libera tutti i buchi lo lascio tutta la mattina tanto la lavastoviglie l'avevo fatta ieri e ho pochissimi cioè insomma non ho niente da mettere dentro cioè no solo le cose della colazione però poi devo sistemare vabbè la plastica e devo sistemare questa è la come si chiama la tutti i detertivi dietro la scatola delle delle medicine delle gemelle scaramanticamente non stavo togliendo le cose per l'aerosol però mi sono decisa devo essere ottimista e ho lasciato fuori soltanto uno sciroppino che è a base naturale per tenere un po le vie aeree insomma più libere e l'acqua di sirvione che spurga tipo lumaca detto questo oggi mi sento molto meglio l'herpes si sta battendo velocemente con con l'antivirale infatti mi sono anche un po' truccata non tantissimo perché non mi sento molto a mio agio truccarmi quando sono combinata di questa maniera però insomma così vado a fare tutti questi servizi devo passare anche al supermercato dopodiché andrò tornerò a casa vorrei riuscire a girare due video uno sui libri e uno sui prodotti finiti e poi però non lo so eh ma che si sono svegliate con tutti i sangue beh deduco che sarà una giornata molto interessante vi terrò aggiornate per il momento si stanno soltanto scannando a dopo allora sono appena tornata c'è una bellissima luce naturale quindi probabilmente oggi se riesco giro se catherine collabora giro con con la luce naturale e i video che devo fare sono appena tornata dalla spesa sono andata prima a prendere bidoncini nuovi per la raccolta differenziata ci sono delle cose che cambiano poi me le studio perché c'è tutto il manuale e ho fatto un po di spesa non ci sono grandi novità nella mia spesa quindi non faccio uno svuota la spesa però ho preso vabbè sempre la pasta della molisana che io adoro ho preso i ditali rigati gli gnocchi e vabbè i miei preferiti non ce n'è i semi di melone sono la mia passina preferita ho preso dei carallini per le gemelle monoporzione da portare da portare a scuola come tipo anche i cracker questi qui che mi piacciono perché sono a basso contenuto di sale e poi vabbè per me ho preso sempre il pane quello con segale e farro che mi piace tantissimo io di solito sono per la colazione dolce ultimamente però è la cosa devo dire che non mi fa piacere un po di bisogno di dolce ogni tanto lo sento però non dolce di quello carico infatti ho fatto secondo me una mezza cretinata perché ho preso la marmellata perché ogni tanto fare due fette biscottate tre fette biscottate un po di marmellata a colazione ci può stare e secondo me va più che bene io prendo da santa rosa perché ci lavorava mio zio e quindi qualitativamente so come sono i prodotti e mi sono sempre piaciuti tantissimo adesso io la tela metto in dispensa non lo so preso le ciliegie perché è quella che preferivo comunque era anche in offerta quindi mi è andata proprio di fortuna e volevo le fette biscottate apriamo l'angolo polemica tutto relativo se tu fai io ho preso queste perché le ho prese integrali devo essere sincera ho preso quelle che avevano meno calorie perché c'ho ancora ogni tanto la mente alle calorie io ho letto gli ingredienti di tutte le fette biscottate che erano esposte io non capisco perché bisogna fare delle fette biscottate integrali passandole per dietetiche quando poi dentro ci metti lo zucchero quindi a meno grassi non alodo di palma ci hanno veramente asfissiato con quest'olio di palma della misura c'erano quelle normali ma senza zucchero però erano più calorie non lo so non ho guardato le tabelle nutrizionali devo essere sincera su questo sono abbastanza facilmente plasmabile nel senso che alla fine scelgo quello che hanno le calorie migliori questa cia lo zucchero non ha degli ingredienti sbagliatissimi perché ha la farina integrale e il lievito lo zucchero l'olio di girasole il sale la farina il flumento maltato e l'agente di trattamento della farina c'è l'acido ascorbito comunque ho preso queste per quanto ne mangi non lo so poi ho preso vabbè ovviamente noi non mangiamo il purè normale momento product placement nel caso si trovasse il signor vasa di qua signor vasa l'ennesimo confezione comprata ne ho un'aperta signor vasa la sente non l'hai incastrata non la ho preso il riso il tonno vabbè le solite cose a e per la colazione ho preso anche un pacchetto piccolo questi sono gli unici biscotti semplici che mi piacciono tantissimo io rosaiva lasciate stare questi li ho presi perché mi piacciono nonostante dentro abbiano non solo lo zucchero ma anche lo sciroppo di glucosio il fruttosio l'estratto l'estratto di rosmarino utilizzato come antiossidante me lo spalmo in faccia vabbè comunque ho preso questi magari li mangiano le bambine anche e per la prima volta credo preso la bromance tea della twinings che a intensità 2 mt nero al profumo di agrumi non so perché ho preso non so perché ho preso questo cioè non so perché ho preso questo non so se è la prima volta che prendo questo mi sto confondendo sto pensando a duemila cose perché io oggi volevo iniziare le grandi manovre fuori c'è un sole bellissimo e mi ero data mi volevo dare completamente alle pulizie e alle organizzazioni di alcune cose della cucina oltre a quello che vi ho fatto vedere devo spostare la pasta da quel cassettone lì a lì sotto che è quasi vuoto soltanto che è un mobile messo con una parte nascosta in fondo e quindi ci posso mettere la pasta ancora aperta per sorriso vabbè soltanto che ho fatto un pochino tardi non so cosa fare per prima io sono totalmente negata con la programmazione io mi sono resa conto perché ho provato col bullet a segnarmi tipo domani pulisci quello e quello no io pulisco a come me la sento quindi non posso dire io stamattina faccio quello 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 e quello no io stamattina inizio a fare qualcosa mi do dei limiti inferiori così tutto in più è tutto grasso che cola detto ciò vi saluto dovrei fare prima colazione come al solito i miei vlog stanno diventando lunghissimi spero che non vi dispiace ma tanto li giro solo quando non ci sono le bambine c'è un pochettino più di tranquillità qualcuno dice con la voce smr iniziamo a fare video così sussurati non credo di essere adatta per i video smr comunque mi do alle grandi manovre però dovrei girare prima di video però dovrei anche fare colazione però non lo so comunque buona festa delle donne mi sono dimenticata buona festa delle donne e che io non la considero tanto la festa delle donne perché oggi il mio papo avrebbe compiuto 80 anni quindi oggi la la sua ricorrenza per me il suo compleanno oggi non è la festa della donna senza togliere nulla alle donne sì ma ci mancherebbe sì papà avrebbe compiuto 80 anni mi fa tanto tanto strano veramente tanto strano lui diceva sono nato prima io che la festa delle donne no perché lui era del 38 e la festa delle donne mi sa che degli anni 20 fine anni 20 comunque non o inizi anni 30 quindi 1900 mio padre era del 1938 lui si vantava sono nato prima io e poi la festa delle donne invece no e comunque auguri a tutti qui e lì su allora aggiornamento grandi manovre ci sto riuscendo non so come ma ci sto riuscendo non mi sono persa come quei momenti in cui dici ma fammi dare una scorza instagram poi alzi gli occhi e sono passati 20 minuti mezz'ora comunque sono riuscita anche a girare dei video allora il cassetto della pasta è vuoto e pulito e adesso lo riempirò con tutto questo ciotole ciotoline ciotolette ciotolame e poi oddio con l'eleganza che contra che mi contraddistingue qui allora vedete lo scomparto come è pro molto profondo quindi l'infondo si lo so ci hanno scritto perché questo pezzo è stato modificato perché prima era angolato io sfruttavo vabbè ve lo spiego un'altra volta se non stiamo a parlare di che stiamo a parlare allora lì in fondo ci ho messo i formati di pasta quelli più strani tipo dei pennoni giganti che secondo me l'unica soluzione è farli ripieni vi rendete conto sto saluta in terra che cosa non si fa la regina è sempre la regina sono a grazia ma già le gambe di lato stile gatto poi dietro c'è tutto ci sono tutte le confezioni di pasta in tonse qui ci sono quelle aperte e questo barattolo qui è quello della pasta dei rimasugli di pasta che io faccio per non buttare proprio niente odio buttare il cibo e ho dei barattoli vuoti e anche sotto guardate quanto spazio ho adesso qui ho vabbè devo trovare spazio per queste cose e comunque ho tantissimo spazio avete capito che la parola è spazio ecco vai così ora metto a posto se riesco la scatola le medicine che non posso farvi vedere naturalmente perché youtube mi cassa il video e devo trovare un posto per questa sapete come cosa è questa candele candeline cose per le feste sacchetti forchettine però sono le confezioni chiuse qui c'è proprio tutto chiuso razzi tipo quelle candeline che si incendiano quelle che si la candela questa candela di elsa l'ha regalata elsa e anna l'ha regalato ma perché sorlando le cuffie vi sto stonando con l'ha regalata mia sorella alle gemelle aspettate aspettate un attimo sediamoci cinque minuti perché nel frattempo ci siete dietro c'è il marasma nel frattempo non ho fatto solo questo questo telefono è dotato di vita propria aspettate nel frattempo non ho fatto solo questo anche sistemati panni la siamo sotto al mezzogiorno come si suol dire in maniera molto elegante ho sistemato i panni i letti semato i bagni piegato panni 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 cestoni di panni ho la cartigenica dietro di me ma siamo proprio senza nessuna vergogna scusate io la devo togliere non posso girare video con la cartigenica sullo sfondo tra parentesi e i libri di cui ho fatto la recensione sopra ma ma regina di che come direbbe la letizetto regina della sotto ok meglio prendetemi per come sono ecco qui siete in bilico sul libro adesso cadrete non importa siete abituati anche a quello scusate sole sola io vado a prendere bambini a piedi quindi mi devo muovere perché quasi mezzogiorno e devo imbastire il pranzo che è un'espressione così vecchio stampo mi piace tantissimo insomma sistemo le medicine devo far partire tra poco un'asciugatrice forse ho pulito tutta la lavastoviglie si sono spilati tutti i buchi l'aceto e il bicarbonato insieme proprio la fanno da padrone e fatemi coprire le magagne le magagne di casa mia bene bellissimo soprattutto sapere che gente che conosco nella vita di tutti i giorni vedrà questo video perché sai fino a che sono gli stranei arrivi fino ad un certo punto poi ci sono gli amici i conoscenti e quindi vabbè certe cose ci sono in tutte le case voglio dire e quindi questo è tutto io vi saluto adesso se no il blog viene troppo troppo lungo mi continuo le grandi manovre viene voglia proprio con questo sole di fare le pulizie di primavera quindi mi sto sistemando tutto adesso devo sistemare anche il calsetto inferiore dove ci sono tutti i contenitori che io utilizzo per gli alimenti gli avanzi o per surgelare le cose io sto man mano eliminando tutta la plastica utilizzo principalmente il vetro e quindi li voglio sistemare tutti poi ho tutte le ciotole ciotoline ciotolette e quindi adesso ho un cassettone tutto libero ma devo dire che il decluttering che ho iniziato a fare in in casa mi sta dando veramente tantissimo spazio cioè io prima avevo i pensili strapieni di inutilità di cose inutilizzate adesso no anche questo pensile qui dove ci sono per metà i bicchieri e peraltro c'è tipo il porta formaggi che ho messo nella lista nozze chi mi ha ciecato perché non lo utilizzo mai perché noi non siamo siamo appassionati di formaggi però io non ne compro oltre al grana è raro che io compri formaggi non è che degustiamo formaggi di sera magari una volta ma neanche una volta quindi ho quello o dei taglieri o delle ciotole che non utilizzo più quindi sto cercando un pochettino di sistemare tutto sono salita lì sopra e ho trovato una ciotola due ciotole che mi servivano e che adesso metto a lavare mi spiace non avere il cura lavastoviglie perché adesso avrei fatto fare un bel giro così però potrei farlo fare semplicemente con bicarbonate aceto ravedol insegna detto questo la cara antonella che poi detto così io dico ravedol così vabbè il tuo canale suppongo sia più conosciuto del mio quindi ti conosceranno già io dico ravedol per chi non ti conoscesse però sei antonella voglio dire quindi questo è quanto ho un calo di zuccheri ma sono propositiva adesso io mi alzerò da questa serie anno giuro perché se arrivano le gemelle trovano soprattutto tutte quelle cose per le feste è finita io vi saluto poi vado a farmi questa bella passeggiata con le bambine poi al ritorno vi farò quella splendida passeggiata anche con gli zaini delle bambine perché se è leggero lo portano loro se è troppo pesante glielo faccio togliere le volte che ci riesco perché poi altre volte lo vogliono portare loro io ho sempre la mia vertigine vi saluto e ci vediamo al prossimo video ciao